Signori, buonasera! Quanto sapevi e quanto non sapevi? Allora io adesso a distanza di anni, penso più di 25 anni dopo ve lo posso dire, sapevo che c'era una sorpresa, sapevo non che mi sarebbe successo qualcosa ma che sarebbe successo qualcosa e durante il pomeriggio avevo provato a saltare sul bancone normale, avevano finto dicendo vedi se riesci a fare il salto senza farti male. Io ho detto sì ci provo, non è un salto da poco se lo valutate però avevo ancora le mie due ginocchia buone e ce l'ho fatta. Alla sera, adesso ve lo posso dire, è stato sostituito il bancone in legno con il bancone in polistirolo, dipinto uguale, praticamente non se ne sarebbe accorto nemmeno il papà del bancone e io spensieratamente da là ho lanciato il mio famoso urlo Buonasera! Che ormai è diventato...